ciao ragazze ciao a tutti a tutti nuovo video blog paracicriccio come state spero bene allora appunto un po a piacere sapere come state voi io altrettanto bene e nulla quindi oggi è un video per guardare un po con voi ma anche per stare insieme niente io tra poco devo fare il letto quindi mi accingo a fare il letto insieme a voi e poi mi sistemo tutta la mia camera non so ancora cosa farò ma vabbè dietro vedrete dietro vedete sempre quel letto spray per pulire i vetri ma non devo pulire i vetri niente dopo solo pulito qua sopra negli angoli qua da questa parte non so se voi mai lo vedrete ma devo pulire qua da questa parte qua tutto zotto avendo commento quindi non lo so ragazzi se voi vi sta bene che faccio questo video o meno fatevelo sapere su tutti i commenti ma soprattutto fatemi sapere se mi fa piacere questo video questi video che faccio video blog che che dici ok e niente no 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 la metterò a posto perché la coperta che non metto qua adesso perché fa pugno nell'occhio me la metto solamente quando ho fatto il mio letto ho messo a posto con la coperta e adesso ovviamente mi accingo a fare altre cose non so ancora se voglio spolverare però ho già spolverato ieri anche se non si direbbe credetemi sulla parola e così non ho molto voglia di spolverare non vado a matta per spolverare però mi piace spolverare che c'è un piacere un barolone però per modo di dire che mi piace pulire ma quando pulire veramente che arrivano veramente tutte le catastrofi delle polvere immaginabili possibile e immaginabile e niente non lo so io stavo cercando adesso di fare un altro video dei prodotti finiti però su instagram non ho ancora idea di come posso fare a fare un video in pochi secondi quindi credo che ci rinuncio completamente quindi se volete subito mi su instagram perché lei cerco di rimanere attiva come ho fatto ieri che era attiva super attiva direi e nulla questo è quanto quindi non so ragazzi se volete farmi sapere oddio che mi sta menzionando con una su facebook allora se volete farmi sapere come passate buone giornate ne sarei veramente molto felice e contenta ho detto la stessa identica cosa non lo sapete che sono così e niente quindi che dire se questo video appunto non lo so vi fa piacere mettete un bel like il supporto un commentino qua sotto e appunto se va iscrivetevi al canale che non va male non fa niente male attivate la campanella tutte le notifiche vi raccomando altrimenti non vi arriveranno mai tutte non ne personalizzata né nessuna ma tutte le notifiche in modo tale che vi arrivano tutte le notifiche ok è scontato ma vero nulla ci vediamo al prossimo video con qualche altro trucco del giorno vediamo un po a dopo ciao 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 ciao